Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sarà una passeggiata fluviale che prenderà il via dal lungo fiume per arrivare al mare, il fiore all'occhiello del nuovo porto di Pescara e sarà un porto tutto nuovo, quello varato questa settimana dalla delibera comunale di Pescara sul nuovo piano regolatore portuale, con le modifiche che cambiano sostanzialmente il porto e con il nuovo progetto che ha preso il via dopo 20 anni e che nel giro dei prossimi tre dovrebbe consegnare alla città anche le modifiche appena licenziate dal Consiglio, con le banchine destinate a diventare dei percorsi pedonali, i caratteristici trabocchi destinati a trasferirsi sui bracci della diga foranea e l'addio alla darsena dedicata ai pescherecci. Un nuovo porto con una nuova passeggiata e il comune di Pescara e il via, e adesso non è più soltanto un miraggio, quello che potrebbe essere una bella conclusione per i pescaresi e non solo. Io credo che sia una bella infrastruttura che si verrà a realizzare da qui a due o tre anni, in cui si darà veramente vita al piano regolatore portuale di Pescara, e cui il comune di Pescara due giorni fa ha fatto una delibera, ha dato le indicazioni precise ai tecnici che stanno redigendo il nuovo piano regolatore dell'autorità portuale interregionale, mi riferisco ai porti Marchi Abruzzo, al porto di Pescara il comune ha detto che la darsena pescherecci non è più indispensabile per la città di Pescara, ma ha sottolineato l'importanza della passeggiata, e cioè si partirà dalla casa di D'Annunzio, cioè dal circolo Canocchieri, fino ad arrivare alle mie spalle, vedete la diga, dove lì sarà la fine della passeggiata, quindi parliamo di circa sei chilometri di percorso, di cui questi sei chilometri di percorso saranno piste ciclabili, passeggiate lungo il fiume Pescara, fino ad arrivare alla sponda della diga, dove troveremo poi successivamente i trabocchi, che saranno i trabocchi della porta, io li chiamerei la porta della costa dei trabocchi. Quindi i trabocchi questi qui alle sue spalle dove andranno? Andranno posizionati sulla diga a mare aperto, e quindi sarà l'ulteriore cartolina della città di Pescara che si potrà vedere da terra e da mare. Immaginate da mare quando uno si fa una passeggiata in mare di notte e vedere questi trabocchi tutti allineati e illuminati, dove possono tranquillamente ospitare delle cene di lavoro, ma anche delle attività di cultura della pesca. Porto usufruirà di una grande piazza, al di sotto del ponte del mare ci sarà una piazza, dove quella piazza all'interno di essa ci saranno delle vasche di raccolta delle acque bianche del lungomare di Pescara.